e passiamo ora al Salvatore Reina che è la più giovane stella di questo convegno che vede molte stelle più antiche Salvatore Reina ha vinto un dottorato di ricerca in letterature comparate all'Università di Bologna e come tale figura nel programma ma credo vada detto che si è laureato a Torino con una tesi sui dialoghi con l'Eucò di Cesare Pavese una tesi che ha fatto parlare molto di cui si è molto discusso e che ha avuto credo già importanti riconoscimenti il giovane Reina ha studiato un periodo in cui Pavese negli anni dal 43 al 45 ha lavorato alla biblioteca civica di Casale Monferrato che è un'altra miniera di cose interessantissime e ha individuato in una serie di volumi tracce della lettura di Cesare Pavese ora ci parlerà delle stelle come compagne della solitudine di Cesare Pavese e gli lascio subito la parola Sì, io ringrazio la professoressa per la calorosa introduzione e tutto il comitato scientifico che ha dato la possibilità di parlare di Pavese in questa occasione e in questa sede prestigiosa dunque rileggere l'opera pavesiana lasciando da parte la luna e i falò e concentrarsi invece sulle stelle significa affrontare i due procedimenti poetici e narrativi più importanti dello scrittore piemontese cioè l'immagine e racconto che è alla base delle liriche di Lavorare Stanca e quella che potrebbe essere definita come la poetica dei luoghi che venne elaborata compiutamente nei testi teorici di Feria d'Agosto e approfondita successivamente nei dialoghi con Leucò la caratterizzazione che Pavese dà delle stelle illumina non solo sul passaggio dalla prima poetica alla seconda ma conduce allo stesso tempo alla comprensione di un sentimento centrale in tutta la produzione pavesiana cioè quel senso di amara solitudine che fa da sottofondo sin dalle prime poesie giovanili e che trova poi l'epigrafe finale nei versi postumi di Verrà la morte avrai i tuoi occhi prima di vedere quale caratterizzazione assumano le stelle in Pavese occorre una premessa che forse ovvia ma è necessaria quando si parla dello scrittore piemontese cioè la solitudine non è una condizione sofferta da alcuni personaggi pavesiani come Ilberto di Paesi Tuoi o Stefano confinato nella Calabria del carcere e non è neppure quella condizione stereotipata dell'io poetante cui Pavese dà voce nei componimenti poetici ma sin dalla gioventù è la condizione esistenziale che mette Pavese stesso sulla strada della letteratura e della poesia e infatti da un'abissale difficoltà nell'incontro e nella comunicazione con l'altro e da una profonda consapevolezza di tale difficoltà che nasce nel Pavese ancora diciottenne l'esigenza di rispondere alla penna al dolore provocato da questo isolamento e quindi nello smarrimento causato da una distanza che nonostante alcune forti amicizie torinesi quasi tutte sembra comunque ineluttabile la poesia diviene da subito l'unico appiglio non solo per cercare di rompere questo muro di solitudine ma altresì per permettere a Pavese stesso di conoscersi e riconoscersi così nel settembre del 27 scrive all'amore ballerina Luti che la poesia è diventata una sola cosa con la mia esistenza e ad ogni istante mi fioriscono in cuore tenerezze, scatti e struggimenti mentre nell'anno successivo espone al suo maestro Augusto Monti come la poesia li provenga da un'anima contorta stravolta e dissanguata ed è sempre a Monti che Pavese qualche mese dopo dà prova di conoscere molto bene le ragioni che lo conducono verso la scrittura confessando scribacchio, vomito, poesie per avere un terreno un punto su cui fermarmi e dire sono io per provare a me stesso di non essere nulla ora sicuramente in queste parole non manca diciamo l'enfasi del giovane innamorato di una ballerina conosciuta in un varietà o del letterato che cerca di dimostrare qualcosa al suo maestro ma è senza dubbio da sottolineare la consapevolezza che fa essere Pavese nonostante l'età uno spietato e attento giudice di se stesso e ad attribuire la giusta importanza a queste parole giovanili contribuiscono alcuni bilanci compiuti 25 anni dopo queste parole pochi giorni e settimane prima del suicidio parole in cui che dimostrano tristemente come quel muro dopo tutti questi anni fosse ancora intatto in una lettera a Romilda Bollati nell'agosto del 50 paragona la vita ad una candela che se vissuta insieme a qualcuno brucia da entrambi i lati e aggiunge non si può bruciare la candela dalle due parti nel mio caso l'ho bruciata tutta da una parte sola e la cenere sono i libri che restano in un'altra nota diaristica del 17 agosto scrive resta che ora so qual è il mio più alto trionfo e qui intende il successo letterario e a questo trionfo aggiunge manca la carne manca il sangue manca la vita per concludere il diario nel giorno successivo dunque a una settimana dalla morte con la famosa formula non parole un gesto non scriverò più quel che importa però qui sottolineare come poco prima di decidere di congedarsi dal mondo nei bilanci compiuti da Pavese la fine della sua esperienza terrena coincida con la fine della sua esperienza di scrittore o meglio nel fare un bilancio della propria vita egli connette sempre lo sforzo poetico ad una solitudine che proprio da tale sforzo non è stata scalfita né sconfitta come se la poesia avesse disatteso le speranze che il giovane le aveva affidato sin dai versi giovanili ma se volgiamo ora lo sguardo alle stelle dello scrittore emerge chiaramente come esse siano l'immagine di questo sentire o per usare una terminologia più adatta alla prima fase della sua produzione ne siano l'immagine racconto con questo sintagma immagine racconto creato da Parese stesso lo scrittore chiarisce quale sia il meccanismo compositivo alla base delle liriche di lavorare stanca e il testo teorico conosciuto come il mestiere di poeta scritto nel 34 ma pubblicato in appendice all'edizione inaudiana del 43 delle liriche esemplifica cosa intenda con l'espressione riferendosi alla poesia paesaggio in cui l'idea della solitudine è tutta giocata nella contraposizione tra un'eremita e la desolazione della collina dove vive Pavese scrive che l'eremita apparisse colore delle felci bruciate non voleva dire che io istituissi un parallelo tra eremita e felci per rendere più evidente la figura dell'eremita o quella delle felci voleva dire che io scoprivo un rapporto fantastico tra eremita e felci tra eremita e paesaggio e che era esso argomento del racconto ero risalito alla fonte prima di ogni attività poetica che avrei potuto così definire sforzo di rendere come un tutto sufficiente un complesso di rapporti fantastici nei quali consista la propria percezione di una realtà nonostante successivamente come vedremo Pavese sentirà l'insufficienza dell'immagine racconto e si muoverà in un'altra direzione le liriche di lavorare stanca hanno tutte alla loro base come detto la narrazione del rapporto fantastico attraverso il quale Pavese percepisce la realtà e tra questi rapporti fantastici le stelle spiccano in due componimenti nei quali sebbene redatti a tre anni di distanza l'uno dall'altro esse mantengono la medesima caratterizzazione appunto come luogo della solitudine la prima poesia che si intitola non a caso mania di solitudine venne composta nel maggio del 33 e fece parte della prima raccolta di lavorare stanca pubblicata da Alberto Carocci per le edizioni solaria nel 36 la scena si apre con un uomo solo che consume il suo pasto serale davanti a una finestra che si affaccia sul cielo e la cena diviene un momento di forte intensità esistenziale in cui la contemplazione delle vie subito riporta alla mente del poeta la presenza di alcune donne che irrimediabilmente lontane da lui stanno compiendo i medesimi gesti e Pavese scrive mangio un poco di cena seduto alla chiara finestra nella stanza è già buio e si guarda nel cielo a uscire fuori le vie tranquille conducono dopo un poco in aperta campagna mangio e guardo nel cielo chissà quante donne stanno mangiando a quest'ora il mio corpo è tranquillo il lavoro stordisce il mio corpo e ogni donna ma subito dopo aver rivolto lo sguardo in basso alle vie il poeta si rivolge al cielo notturno e continua fuori dopo la cena verranno le stelle a toccare sulla larga pianura la terra le stelle sono vive ma non valgono queste ciliegie che mangio da solo vedo il cielo ma so che fra i tetti di ruggine qualche lume già brilla e che sotto si fanno rumori un gran sorso il mio corpo a sapore alla vita delle piante dei fiumi e si sente staccato da tutto basta un po' di silenzio e ogni cosa si ferma nel suo luogo reale così come fermo il mio corpo ora le stelle fanno il loro ingresso ma esse compaiono solamente nella mente scusate il gioco di parole del poeta egli sa che verranno ed è la loro vitalità e ciò che lo spaventa per cui distoglie lo sguardo dalle stelle e ritorna in basso tra i tetti dove qualche lume diffonde una luce che può allontanare almeno per un attimo ciò che egli ha provato al solo pensiero della comparsa delle stelle in questo modo ricompone un quadro statico davanti a sé e in questa immobilità trova un attimo di pace ogni cosa isolata davanti ai miei sensi che l'accettano senza scomporsi un brusio di silenzio ogni cosa nel buio la posso sapere come so che il mio sangue trascorre le vene la pianura è un gran scorrere d'acqua tra le erbe una cena di tutte le cose ogni pianta e ogni sasso vive immobile ascolto i miei cibi nutrirmi le vene di ogni cosa che vive su questa pianura quindi l'identificazione e la comunione con la terra mediata ovviamente dai cibi che da essa derivano creano un attimo di serenità ma questa serenità è passeggiare il poeta torna a volgere lo sguardo verso l'alto e così si conclude il componimento non importa la notte il quadrato di cielo mi sussurra di tutti i fragori e una stella minuta si dibatte nel vuoto lontano dai cibi dalle case diversa non basta se stesse ha bisogno di troppe compagne qui al buio da solo il mio corpo è tranquillo e si sente padrone se in un primo momento il solo pensiero delle stelle avrà portato Pavese a distogliere lo sguardo ora nel quadrato di cielo come lo definisce egli ritrova ciò che egli stesso sente al di sotto del cielo seduto angosciosamente di fronte alla finestra non vi sono le stelle immaginate in un primo momento ma venne una che sola come solo il poeta che lontano da quella normalità racchiusa nei cibi e nelle case sembra dibattersi per la sua diversità dice Pavese la ragione della diversità è chiara essa non ha delle compagne e ha un disperato bisogno di incontro con appunto queste compagne che non riesce a trovare circondata anch'essa come chi la guarda da un muro che le preclude un vero incontro e quindi il racconto del dibattersi della stella viene compiuto da chi sotto il cielo soffre la stessa solitudine ed è nuovamente l'immagine di un uomo solo che si ritrova in apertura della seconda poesia pavesiana in cui compare una stella composta come dice Pavese stesso con inenarrabile noia nel gennaio del 36 nel Lo Steddatsu che è il titolo della poesia Pavese concentra tutta la solitaria angoscia provata nei dieci mesi di confino a Brancaleone Calabro ma apporre la centralità del confino a Brancaleone Calabro non vi è soltanto il titolo perché Steddatsu in dialetto Calabro vuol dire grande stella nome attribuito a Venere quanto soprattutto il senso di sconfitta davanti all'inesorabile vuoto scorrere del tempo che emerge dall'affresco di Pavese che scrive l'uomo solo si leva che il mare è ancora buio e le stelle vacillano un tepore di fiato sale su dalla riva dove il letto del mare e addolcisce il respiro questa è l'ora in cui nulla può accadere perfino la pipa tra i denti pende spenta notturno il sommesso sciacquio l'uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami e lo guarda arrossare il terreno anche il mare tra non molto sarà come il fuoco avvampante quindi le stelle nell'ora dell'alba che precede la loro scomparsa vacillano di fronte all'uomo che solo cammina in riva al mare cerca di riscaldarsi e illuminarsi accendendo un fuoco proprio come se volesse vegliare la propria solitudine questa però lo travolge con un senso di tragica inutilità e Pavese continua non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno in cui nulla accadrà non c'è cosa più amara che l'inutilità pende stanca nel cielo una stella verdognola sorpresa dall'alba vede il mare ancora buio e la macchia di fuoco a cui l'uomo per far qualcosa si scalda vede e cade dal sonno tra le fosche montagne dove un letto di neve la lentezza dell'oro è spietata per chi non aspetta più nulla l'asserzione iniziale di questa lassa capovolge il significato che assume l'alba essa non è più il momento dell'inizio del giorno in cui si raccolgono le possibilità offerte dal giorno stesso ma proprio in virtù dell'inutilità del giorno che incomincia diventa il momento di maggiore angoscia e tra quelle stelle vacillanti ne emerge una sola che nella sua caratterizzazione racchiude come abbiamo detto tutta la solitudine provata da Pavese come la prima è minuta e si dibatte da sola così questa è stanca come stanco e il poeta non solo ma se si osserva il campo semantico del componimento si nota come esso sia dominato da un'opposizione da una parte vi è il tepore del mare il calore del fuoco al cui fianco il poeta cerca di scaldarsi e dall'altra il freddo del letto di neve e in questa contrapposizione la stella non partecipa come natura vorrebbe del campo della luce del calore ma di essa viene sottolineato il destino tragico che l'attende cioè il suo tramonto dietro le montagne nevate è descritto come la caduta in un letto di neve dove ovviamente la stella non potrà che spegnersi e morire e l'angoscia provata davanti allo spettacolo dell'alba che è destinato a ripetersi in eterno ricorda il poeta come altri giorni verranno ancora e la poesia si conclude val la pena che il sole si levi dal mare e la lunga giornata cominci domani tornerà l'alba tiepida con la diafana luce e sarà come ieri e mai nulla accadrà l'uomo solo vorrebbe soltanto dormire quando l'ultima stella si spegne nel cielo l'uomo ad agio prepara la pipa e l'accende la sofferenza dell'uomo solo dunque non lascia che un desiderio quello che quello di dormire e per comprendere quale desiderio di morte si cieli dietro questo desiderio basterà solo ricordare che pochi versi prima la stella cadeva nel letto di neve proprio per il sonno e quindi nel dissico finale sul fare dell'alba trova spazio la più profonda angoscia nuovamente perché anche l'ultima stella scompare dal cielo e l'uomo abbandona il fuoco accanto al quale sperava di riscaldarsi ma come anticipato prima agli occhi di Pavese l'immagine racconto come meccanismo compositivo mostra presso i suoi limiti e nel febbraio del 40 compone un altro breve testo teorico intitolato a proposito di certe poesie non ancora scritte in cui per utilizzare le sue parole considera conclusa l'esperienza di lavorare stanca e oltre a valutare criticamente quanto già scritto cerca di immaginare una nuova direzione per la propria poetica e già in questa occasione senza che ne scaturisca un'elaborata riflessione teorica Pavese esprime chiaramente verso quali orizzonti simbolici si stia muovendo la sua riflessione e scrive è certo che anche stavolta il problema dell'immagine terrà il campo ma non sarà questione di raccontare immagini ma sarà questione di descrivere non importa se direttamente o immaginosamente una realtà non naturalistica ma simbolica ora la menzionata svolta simbolica era in realtà un percorso già avviato perché nel 33 la lettura di Fraser lo aveva iniziato alla passione per l'etnologia e per quella cosiddetta scuola degli razionalisti che poi pubblicò nella collana viola di Enaudi e già in alcune note del diario risalenti al 38 il simbolo non solo appariva come la naturale prosecuzione dell'immagine ma veniva esplicitamente ricollegato al mito greco su cui torneremo tra poco e alla potenza che in esso possedeva e il cammino fu quello poi conosciuto cioè nell'elaborazione dei testi teorici di Feria d'Agosto dove la poetica incentrata su ricordo infanzia e simbolo trova la sua spiegazione più approfondita concezione teorica che poi sostenne la creazione poetica se così si può dire dei dialoghi con l'Eucò e della luna e il falò rispettivamente del 47 e del 50 ora addentrarsi nella teoria del mito pavesiano vorrebbe dire perdere di vista le stelle ma è necessario sottolineare l'importanza che all'interno di essa assumono i luoghi essi sono protagonisti di una suggestiva riflessione del giugno del 42 quando lo scrittore davanti ai luoghi della sua infanzia Santo Stefano Belbo scrive a Fernanda Pivano sempre ma più che mai questa volta ritrovarmi davanti e in mezzo alle mie colline mi sommuove nel profondo deve pensare che immagini primordiali come a dire l'albero la casa la vita il sentiero la sera il pane la frutta eccetera mi si sono dischiuse in questi luoghi anzi in questo luogo e rivedere perciò questi alberi case viti sentieri eccetera mi dà un senso di straordinaria potenza fantastica come se mi nascesse ora dentro l'immagine assoluta di queste cose questo stato di aurorale virginità che mi godo all'effetto di farmi soffrire perché so che il mio mestiere è di trasformare tutto in poesia il che non è facile e quindi in questo stato di commozione statica davanti ai luoghi dell'infanzia che è il tempo in cui si è conosciuto il mondo per la prima volta nella sua purezza che stimola e potenzia la fantasia dello scrittore non solo ma il riconoscimento dell'unicità di questi luoghi suscita in Pavese una riflessione duplice che investe sia il passato che il futuro della sua produzione perché da un lato per un momento rivaluta negativamente quanto ha già scritto così lontano da questi riconoscimenti e dall'altro terrorizza invece compiutamente cosa ci vada cosa sia necessario per esprimere questa nuova potenza fantastica e continua anzi la prima idea è stata che quanto scritto finora erano sciocche cose tracciate secondo schemi all'otri che non hanno alcun sapore dell'albero della casa della vita e del sentiero come li conosco andando per la strada del salto nel vuoto capivo appunto che ben altre parole ben altri echi ben altra fantasia sono necessari che insomma ci vuole un mito ci vogliono miti universali fantastici per esprimere a fondo è indimenticabilmente questa esperienza che è il mio posto nel mondo pensavo che descrivere storie di contadini non basta ancora descrivere poi paesaggi cretino bisogna che i paesaggi o meglio i luoghi cioè l'albero la casa la vita il sentiero il burone vivano come persone come contadini e cioè siano mitici la realizzazione del senso di nuova potenza fantastica si ebbe cinque anni dopo queste riflessioni con la menzionata pubblicazione dei dialoghi con Leucò ma prima di analizzare uno di questi dialoghi e vedere come le stelle in esso cambino significato rispetto a quanto visto nelle liriche precedenti occorre soffermarsi ancora un attimo sui luoghi che costituiscono a mio avviso la motivazione profonda per la quale lo scrittore decide di rivolgersi al mito classico essi rappresentano infatti l'anello di congiunzione il punto di contatto tra la tradizione classica e la moderna esigenza di raccontare come abbiamo appena visto l'esperienza di Pavese certamente egli sceglie il mito classico per quella che lui definisce la perdonabile voga popolare di questi miti cioè il loro essere conosciuti e la loro immediata e tradizionale accettabilità ma queste sono forse alcune delle ragioni le più semplici e forse le meno profonde la scelta del testardo narratore neuralista come si definisce lui stesso di mettere da parte le colline piemontesi e tornare ai monti e alle isole come vedremo dopo del mito greco non si comprende pienamente se non si mette in relazione l'importanza del luogo nel processo mitopoietico di Pavese con il profondo collegamento che il luogo stesso nel mito classico intrattiene appunto con che le trame mitiche intrattengono con le realtà geografiche dove i miti sono ambientati il legame tra tradizioni mitiche principalmente d'età arcaica e quei luoghi che dalle storie sono toccati è l'elemento che rende il mito classico così interessante agli occhi di Pavese e in quella connessione tra mito e luogo egli riconosce un importante precedente del fine a cui lui stesso tende cioè quello che abbiamo visto la creazione di una poesia che possa vivificare i luoghi della sua immaginazione e quindi questa è l'angolatura attraverso la quale Pavese si accossa alle tradizioni letterarie antiche il suo non è un approccio linguistico non è filologico e non è forse contrariamente a quanto sostenuto per molto tempo da buona parte della critica un approccio etnologico e se si pone al centro del rapporto tra Pavese e il mondo classico questa particolare angolatura si capisce bene con quale interesse Pavese tradusse alcuni degli ignomerici opera nella quale la connessione tra mito e luogo è assolutamente centrale ma non solo perché questa fu l'angolatura attraverso la quale si avvicinò a testi classici anche successivi ad esempio quando legge le ergeorgiche scrive sempre a Fernanda Pivano di ardere d'amore per quest'opera che cito intride tutta la campagna di segrete realtà mitiche grazie alle quali dice sempre si può riscontrare la dileguata presenza di un dio anche negli atti quotidiani ed è proprio l'azione di un dio a caratterizzare la volta celeste nell'ultimo testo paresiano su cui vorrei soffermarmi cioè il dialogo la vigna protagonista del dialogo sono due donne la ninfa leucotea che in un dialogo precedente intitolato le streghe aveva consolato la Circe abbandonata da Odisso aveva lenito le sue ferite e altra protagonista è Arianna che secondo il modello inaugurato da Catullo è il vero centro della scena l'Arianna che giace abbandonata da Tesero su una spiaggia di Nasso ma le poche righe introduttive che anticipano il dialogo sottolineano come nel segmento della storia mitica ritagliato da Pavese ciò che gli interessa non è tanto l'abbandono da parte del giovane atenese quanto ciò che aspetta Arianna infatti scrive Ariadne abbandonata da Tesero dopo l'avventura del labirinto venne raccolta sull'isola di Nasso da Dioniso di ritorno dall'India e finì in cielo tra le costellazioni Pavese dunque immagina che Arianna prima di divenire la stessa una costellazione cioè segue quella versione che a partire dal terzo secolo era stata raccontata da Arato Apollonio Rodio e nonno di Panopoli venga raggiunta sulla spiaggia dall'Eucotea alla quale è affidato appunto il compito di preannunciare l'arrivo di Dioniso ma la ninfa all'Eucotea all'inizio si dimostra ben diversa dall'ascoltatrice attenta e premurosa che aveva assistito Circe e alla povera Arianna che chiede il perché di quella visita risponde con veramente una spietata durezza vengo a dirti che il tuo caro ragazzo dalle belle parole dei ricci violetti se n'è andato per sempre ti ha piantata la vela nera che è scomparsa sarà l'ultimo ricordo che ti lascia corri strilla dibattiti è fatta Arianna rifiuta di ascoltare le sprezzanti parole di Leucotea che non si fa comunque commuovere e torna a rivolgersi all'abbandonata ecco piangi così almeno è più facile non parlare non serve così se ne vanno sciocchezze superbia così il tuo dolore compare per quello che è ma finché il cuore non ti scoppierà finché non la trerai come una cagna e vorrai spegnerti nel mare come un tizzo non potrai dire di conoscere il dolore ora con riferimento al desiderio di volersi spegnere nel mare Pavese stimola l'attenzione del lettore colto perché concentra nell'espressione molti riferimenti il mare è quel mare canuto dove si tuffò Anacreonte e Ebro d'amore e dove si tentò di annegare la suicida Saffo protagonista di un altro dialogo schiuma d'onda dove la stessa ammette di aver cercato la morte nel mare credendo che il desiderio sono le parole di Saffo della Saffo pavesiana che il desiderio l'inquietudine e il tumulto si sarebbero spenti non solo ma nelle parole di Leucotea si nasconde chiaramente un riferimento alla storia stessa di Leucotea quando ancora chiamata Aino si gettò in mare col figlio Melicerte in preda alla follia istillata da Hera che voleva vendicarsi dell'ospitalità offerta al piccolo Dioniso ed è proprio Dioniso che fa la sua comparsa in abstenza perché Leucotea informa Arianna che è lì per annunciare un gran dio e il dio è proprio quel Dioniso che per riprendere le parole di Vernan è presente quando il mondo stabile vacilla per diventare un gioco in cui l'illusorio e l'impossibile si fanno realtà proprio come il catasterismo di Arianna e nelle parole della ninfa Dioniso diviene un nuovo dio il più giovane un dio di gioia che tutti seguono e acclamano le successive battute mostrano bene come Pavese abbia saputo trasformare in poesia quello che abbiamo letto prima gli attimi di commozione statica davanti ai luoghi della propria infanzia perché ad un'Arianna che non riesce a credere alla notizia di Leucotea la ninfa risponde chi può dirlo tu sei mai stata in un vigneto in costa un colle lungo il mare nell'ora lenta in che la terra dà il suo odore un odore rasposo e tenace tra di fico e di pino quando l'uva matura e l'aria pesa di mosto o hai mai guardato un melograno frutto e fiore qui regna Dioniso e nel fresco dell'edera nei pineti e sulle aie la vigna è il luogo dove regna Dioniso ma egli non è tra quei luoghi ma è quei luoghi e quindi l'unicità del luogo è condizione per la presenza del divino e al tempo stesso come abbiamo detto nella connessione tra mito e luogo del mito greco Pavese trova la ragione per trasformare in poesia attraverso la riscrittura delle vicende mitiche dell'antichità il sentimento provato davanti ai suoi luoghi mitici ma Arianna abbandonata e tradita da un umano non si sente pronta e quasi vorrebbe scomparire anche alla vista del dio chiede all'eucotera se non ci sia un luogo che sia solitario abbastanza che i dei non la vedano e la ninfa inizia a rispondere mettendo da parte la durezza dell'inizio e le dice cara mia ma gli dei sono il luogo sono la solitudine sono il tempo che passa verrà Dioniso e ti parrà di essere rapita da un gran vento come quei turbini che passano sulle aie e sui vigneti neanche queste parole però riescono a tranquillizzare Arianna che è angosciosamente proiettata verso il futuro ella ha paura che Dioniso sia crudele soprattutto che non sia diverso da un mortale anzi da quel mortale che l'ha trascinata su quell'isola a questo punto l'eucotea abbandona il tono dell'inizio e nelle ultime battute prova a tranquillizzare Arianna dicendole anche questo è un risveglio bambina sarà come amare un luogo un corso d'acqua un'ora del giorno nessun uomo val tanto gli dei durano finché durano le cose che li fanno finché le capre salteranno tra i pini e i vigneti ti piacerà e gli piacerai Arianna resta irremovibile sino alla fine del dialogo e nell'ultima battuta Pavese concentra tutto il dolore di chi sa bene quali terribili conseguenze possa avere l'abbandono l'ultima battuta di Arianna è morirò come tutte le capre e ad essa a questa sfiducia risponde una leucotea ormai materna con la battuta con cui si conclude il dialogo sulle vigne di notte ci sono anche stelle è un dio notturno che ti aspetta non temere le stelle dunque ricompaiono ma ciò che rappresentano ora è radicalmente diverso da quello che abbiamo visto nelle due liriche se lì erano specchio della solitudine del poeta che nel loro brillare ritrovava la propria solitudine la battuta finale di leucotea che come Fulman in clausula preannuncia il catastroismo di Arianna muta il valore delle stelle che non rappresentano più il luogo della solitudine ma queste stelle che di notte guardano le vigne diventano il simbolo del riscatto dalla solitudine dall'abbandono cioè dalla sofferenza dalla condizione sofferta da Arianna sulla spiaggia e l'intero dialogo si sviluppa seguendo un movimento che ricalca la dinamica dei luoghi della trama muove infatti da un inizio come abbiamo visto tragico e spietato come tragico e spietate sono le parole di leucotea per arrivare alla speranza infusa da una leucotea abbiamo detto davvero materna che il destino per Arianna le abbia riservato ancora qualcosa che sia forse meglio del dolore inflitto da tesero certo in questo caso Pavese non ha stravolto il mito classico e anzi tra le varianti della vicenda mitica di Arianna egli ha scelto quella più diffusa e delle altre come spesso accade non dà neppure menzione inutile dirlo l'Arianna paresiana è modellata sul precedente catuliano e ovidiano ed è la donna relicta per eccellenza l'unica differenza forte è che l'eroina paresiana sembra essere stata dipinta dopo gli attimi di furia e di disperazione quando forse subentra una più dolorosa rassegnazione ma il fatto che la versione seguita da Pavese si faccia a un precedente un precedente mitico già diciamo costituito non svaluta il significato della scelta paresiana anzi l'emergere della sensibilità di Pavese si intravede proprio attraverso non solo la scelta della storia mitica ma anche la la scelta della versione a cui rifarsi e quindi attraverso proprio questi elementi la riscrittura mitica di Pavese si dimostra capace di esprimere i tormenti dello scrittore attraverso le trame antiche ma altresì di infondere nuova linfa ad esse in conclusione un unico punto rimane non chiarito perché la concezione delle stelle di Pavese sia cambiata e qual è il senso ultimo e definitivo che egli assegna alle stelle si potrebbe ipotizzare che poco prima di scrivere il dialogo che abbiamo visto Pavese avesse incontrato la sua l'Eucò e che questo incontro lo avesse allontanato dalla solitudine o che forse rimirando le stelle in quel periodo si fosse ricordato proprio di Dioniso che portò Arianna in cielo lontano dal dolore o forse però in questo caso si peccherebbe di eccessivo biografismo e ci si avvicinerebbe troppo a quei pettegolezzi da cui Pavese intimò di stare ben lontani negli anni a venire forse e concludo bisogna solo sospendere il giudizio e limitarsi a osservare come le stelle abbiano accompagnato il percorso di un uomo solo e tormentato che nelle stelle seppe vedere a volte la sua solitudine altre volte la speranza di fuggirla l'ultima ipotesi è che forse ad accompagnare Pavese che guardava le stelle ci fossero le parole di uno degli abitanti dell'amata Spoon River tale Herbert Marshall il cui epitafio sulla collina termina così questo è il dolore della vita che si può essere felici solo in due e i nostri cuori rispondono a stelle che non vogliono consaperne di noi grazie grazie Salvatore Reina di questa brillante relazione mentre parlava ricordavo che in anni lontani più volte Italo Calvino e Giulio Bollati dicevano che Pavese amava molto una canzone americana intitolata Stardust cantata da Frank Sinatra poi in anni successivi e più conosciuta da noi come polvere di stelle e proprio questa polvere di stelle in cui siamo stati immersi in questi tre giorni mi fa chiedere agli organizzatori di questo convegno che ringrazio sentitamente e in particolare i presenti Attilio Ferrari Donato Pirovano Alberto Rizzuti e Silvia Romani di pubblicare gli atti di questo convegno a differenza di Pavese io non credo che i libri siano cenere credo che i libri siano stelle che non siano solo compagne della solitudine ma che riempiano la solitudine e la nostra vita che ci orientino e che ci guidino e quindi mi auguro di vederli letti ringrazio naturalmente tutti i relatori di questa mattina e chiedo di cominciare seppure tardi però abbiamo ancora un po' di tempo al pubblico di intervenire con domande i relatori tutti della mattinata possono rispondere e venire qua allora ecco molto bene Andrea Pinotti se vuoi accomodarti ecco benissimo così rompo il ghiaccio io da relatore e faccio una domanda per Salvatore io sono molto ignorante su Cesare Pavese quindi magari faccio una domanda la cui risposta è davanti agli occhi di tutti in una delle slide hai citato la lettera Malapivano in cui lui parlava di questa necessità di mitizzare le figure della sua poesia e esprimeva l'esigenza di ricorrere a universali fantastici ecco mi domandavo se in lui è forte questa presenza di Vico che mi sembra evocata da questa nozione implicitamente almeno sì Vico è una presenza importantissima diciamo molto ingombrante nella poetica paresiana soprattutto del del mito il il concetto di universali fantastici e anche del valore attribuito alla poesia nella storia dell'evoluzione del dell'uomo lui lo riprende esattamente da 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 Vico e Vico è anche lui lo considera un po' il padre nobile di tutti quei degli studiotti di mitologia che poi pubblica nella nella collana viola tra cui Careni è uno dei nomi più forse più importanti e in una lettera a una collaboratrice dell'einaudi che aveva fatto delle proposte per la viola non molto pertinenti Pavese le spiega cosa intende lui per filosofia del mito e conclude dicendo io intendo soprattutto alla tedesca non seguendo la scuola ad esempio dei ritualisti inglesi per un nome per riassumere alla Vico per cui è un po' la figura che sta dietro sia la sua elaborazione ma anche la sua attività editoriale che rappresenta diciamo l'aspetto più pubblico di operatore culturale del suo interesse per il mito molto bene a conclusione di questa di queste tre giornate con Donato Pirovano volevamo innanzitutto ringraziare tutti quelli che hanno partecipato con attenzione e con entusiasmo a parte gli atti penso che varrebbe la pena fare ancora del seguito dunque io mi voglio ricordare che nel 1609 scusate nel 2009 quando abbiamo celebrato i 400 anni della scoperta o perlomeno dell'utilizzo del telescopio dell'utilizzo del perspicillum di Galileo per guardare il cielo l'astronomia internazionale l'unione astronomica internazionale ha lanciato un programma che è basato sul fatto di trasmettere diciamo così la scienza ma non soltanto la scienza anche la cultura in generale attraverso l'osservazione del cielo nel senso che il cielo è qualche cosa che tutti hanno a disposizione e su cui tutti possono mettersi bene d'accordo cioè se vogliamo fare andare a studiare la microfisica dobbiamo andare al CERN a Batavia in posti complicati dove magari per capire qualche cosa ci vuole del tempo mentre invece il cielo è qualche cosa di disponibile a tutti e relativamente come dire facile da almeno da vedere noi lo guardiamo con gli occhi questa altra meravigliosa cosa che noi possediamo questa capacità di vedere le immagini di cui si parlava questa mattina ecco io vorrei far presente che queste tre giornate hanno dimostrato un ulteriore punto che se vogliamo far parlare quelle che vengono chiamate le due culture cioè la cultura umanistica e la cultura scientifica chiamiamola le stelle sono proprio uno dei passaggi più facili nel senso che su quello ci intendiamo tutti cioè c'è la componente più tecnica più scientifica ma c'è questa componente emotiva che unisce le due culture e penso che varebbe la pena anche fare un passo in più cioè non soltanto la cultura nostra noi qui ci siamo parlati soltanto in pratica della nostra cultura classica diciamo europea eccetera sarà bello incominciare a parlare magari anche delle altre forme di cultura che proprio attraverso il cielo si possono chiudere le visioni del cielo che ci sono nelle poesie cinesi nell'indiano io ne so veramente poco ma anche quel poco che esiste anche nei paesi dell'America dell'America dall'altra parte insomma Nord America che Sud America sono sono importanti e varebbe la pena unirsi anche in quel senso proprio per allargare la nostra visione noi ci chiudiamo spesso proprio sentivamo adesso l'importante è parlare della propria del proprio albero della propria collina eccetera ed è importante questo però per aprirci visto che stiamo diventando globali anche dal punto di vista culturale forse le stelle sono proprio il sistema per fare questo questo ulteriore passaggio quindi la mia proposta in un certo senso è di fare un come dire un non tramontate le stelle due in cui ci allarghiamo magari anche ad altre culture va bene questa è un'idea vediamo sì grazie un breve ringraziamento a tutti anche da parte mia vorrei prendere una bella metafora che ha usato Maria Luisa Doglio quando ha parlato della stella più giovane e delle stelle più più anziane è una bella metafora perché devo rivelare che ci siamo posti il problema se far chiudere il convegno alla stella più giovane e devo dire che la scommessa è stata vinta però a parte questa battuta io ringrazio tutti i relatori per il lavoro che hanno fatto per le relazioni così dense che hanno presentato e insomma l'auspicio degli atti credo che sia opportuno siamo stati anche stelle erranti perché abbiamo vagato per quattro luoghi e quindi secondo me è giusto anche ringraziare coloro che ci hanno ospitato in questi in questi luoghi planetario di Torino poi l'università il rettorato il palazzo nuovo una parte di palazzo nuovo e ora questa bellissima sala dei mappamonti e io direi che a questo punto dichiarando chiuso il convegno auguro alle stelle di tornare a casa felici